Sentenza storica, quella di un tribunale del lavoro di Londra che ha dato ragione a Jordi Casamitiana, riconoscendo che l'essere vegano è un credo filosofico e in quanto tale deve essere tutelato dalla normativa contro le discriminazioni. La sentenza giunge nell'ambito di una causa per la contestazione di un licenziamento. Jordi, che ha portato in tribunale il suo di lavoro, si dice più che soddisfatto. Credo sia la forza dell'evidenza così schiacciante. Il giudice comunque non mi ha fatto alcuna domanda. È una sentenza che impatterà vari ambiti, gli ospedali per esempio, le carceri. Jordi sosteneva che il licenziamento fosse seguito alla sua rivelazione secondo cui la società aveva investito il proprio fondo pensione in aziende coinvolte nella sperimentazione sugli animali, subendo dunque una discriminazione basata sul suo veganesimo. La sentenza fa discutere. Quando aprimmo nel 2019 il veganesimo era ancora un qualcosa di nicchia. Non c'erano caffè, ristoranti vegani. Non è più così oggi. I detrattori però non mancano. Il veganesimo non penso sia una cosa di questo mondo. Abbiamo denti per mangiare la carne. Penso sia un diritto, a patto che non leda il mio, di essere carnivoro. Con la convinzione delle idee, Jordi ha cambiato il corso della storia oltre manica. Lui continuerà ad essere un vegano super convinto. Tra le altre cose va al lavoro a piedi per non uccidere con l'auto moscerini e insetti vari.